Però le vorrei far vedere una fotografia. Lei non so se si ricorda qual è stata la prima cosa che lei ha postato su Instagram qualche anno fa. No, sono sincera non me la ricordo. No, vabbè, ne postate talmente tante per cui... Però gliela voglio far vedere. Guardi, piazza del popolo, il popolo del PD. Le è costato molto staccare... andarsene dal PD? È normale che per alcuni rapporti anche umani, personali, dispiaccia. Perché è chiaro che poi dopo tanti anni passati a lavorare dentro al PD con grande entusiasmo, con grande energia da parte mia dal 2012 in poi, quindi sette anni di impegno vero dentro la comunità del PD, in parte dispiaccia. Però sono sincera, è una scelta che ho fatto con molta convinzione. Più passa il tempo e più sono convinta di questa scelta, perché credo che il PD in quest'ultimo periodo sia diventato un partito in cui è difficile poter portare avanti le proprie idee senza essere sempre accusati di voler creare fibrillazione o altro. Quando Renzi è venuto qui, no? Renzi è venuto qui poche settimane fa. A un certo punto gli ho detto, dica la verità, finalmente non ha più a che fare con le correnti e quant'altro. Uno dei motivi delle difficoltà era questa? Sicuramente sì, perché dentro al PD... Cioè che vi facevate la guerra all'interno? Ma sono arrivate a delle, appunto ormai un po' a delle contrapposizioni tra correnti interne al partito che non ci hanno mai appassionato. Anzi, noi fin dall'inizio abbiamo cercato di guidare il partito proprio per eliminare le correnti e devo dire che evidentemente non ci siamo riusciti purtroppo quindi uno deve anche ammettere quando non riesce a portare fino in fondo una battaglia. Allora forse è meglio separare i propri percorsi lavorando insieme al governo perché chiaramente stiamo sostenendo lo stesso governo, la stessa maggioranza ma cercando anche di differenziarci in alcune battaglie. Lo stiamo facendo in queste ore sulle tasse per esempio. Adesso arriviamo a...